Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di maccheroncini 1 chilo di cime di cavolfiore verde pugliese 120 grammi di lardo 4 cucchiai di pecorino grattugiato Pepe in grani e sale Preparazione Mondare il cavolfiore e cuocerlo in acqua bullente salata A fine cottura unire i maccheroncini e farli cuocere insieme A parte far soffriggere il lardo a dadini senza farlo rosolare finché diventa quasi trasparente Condire con il soffritto la pasta e il cavolfiore ben scolati Cospargere con pecorino e una macinata di pepe Il piatto è pronto! Buon appetito!